Siamo arrivati al tavolo numero 4, c'è una mano, il mandù, l'ha fatto race, il signore a re-raise, vediamo un po', fold, fold, vediamo il tabellone, come vedete, siamo entrati nel livello numero 4 del 12 di giornata, c'è un fold, c'è un fold, c'è un fold, c'è un fold, c'è il fold, c'è il fold, asso, 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 Grazie.